Decine di sanzioni in questi primi tre giorni di lockdown. Toleranza zero in zona rossa era stata annunciata. Solo nella mattinata di ieri sono state controllate dalla polizia quasi 200 persone e per 18 di loro è scattata la sanzione da 400 euro. Erano a piedi in giro senza giustificazioni valide. Il numero di contagi nei 28 centri della zona rossa è in costante aumento. Dopo la video call promossa dalla prefettura che ha riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza alla presenza di tutti i sindaci e dopo un successivo incontro online tra il Questore e i primi cittadini di Termoli, Guglionesi, Campomarino e Montenero il Basso Morisi è stato suddiviso in tre macro aree Termoli, Larino e Castelmauro. In base a questa ripartizione sono in atto controlli senza pausa al fine di impedire tutti gli spostamenti che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. A Termoli la giunta comunale ha previsto l'urgente assunzione di sette vigili urbani per fronteggiare l'emergenza Covid. Si attinge dalla graduatoria degli agenti stagionali ancora in corso di validità. Saranno in servizio al momento per due mesi. Il sindaco Francesco Roberti ha previsto limitazioni anche alla vendita nelle aree pubbliche mercatali. Consentita la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche ai soli residenti nel comune di Termoli. A Campomarino, fulcro della zona rossa, secondo giorno di screening promosso da comune Croce Rossa. Ieri oltre 300 persone si sono sottoposte ai tamponi. L'iniziativa andrà avanti fino a domani. Le forze dell'ordine presidiano le aree di raccordo dei vari centri della zona rossa. Limitare spostamenti inutili e assembramenti in questo momento è l'atto più efficace di prevenzione.